Adesso andiamo a Chieti per parlare di vaccini e di nuove sedi per la vaccinazione contro il Covid. In diretta per noi con diversi ospiti c'è Anna Di Giorgio. Buongiorno Anna. Sì Marina, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. In questo momento con la telecamera di Andrea Berardinelli ci troviamo all'interno del vecchio ospedale di Chieti per parlare del piano di vaccinazioni anti-Covid del Comune di Chieti. Comune di Chieti che tra l'altro è stato individuato come uno dei comuni prioritari proprio per procedere speditamente con la campagna vaccinale alla luce dei contagi. Tutto questo è accaduto appunto nell'ultima riunione che c'è stata anche con il prefetto e con gli ospiti che ho con me in questo momento vorremmo parlare proprio di questo. A partire dal direttore sanitario dell'azienda appunto dell'Asla di Lanciano Vastochieti, Angelo Moraglia. E allora come vi state organizzando? Perché insomma c'è bisogno di procedere con una marcia in più per quanto riguarda questa campagna vaccinale? Sì ci stiamo organizzando come ci siamo già organizzati su molti punti vaccinali del nostro territorio perché è un territorio molto articolato e oggi iniziamo anche in questa nuova sede dell'ex Santissima Annunziata di Chieti che sarebbe dovuta essere appunto quella sede delle unità complesse di cure primarie ma che adesso essendo prioritaria la campagna vaccinale utilizzeremo per vaccinare naturalmente le persone soprattutto gli over 80 che inizieremo oggi pomeriggio per poi dopo naturalmente deve andare a svolgere quel ruolo per cui è stata creata questa struttura che sarebbe appunto l'unità complessa di cure primarie. C'è anche la necessità di individuare nuovi centri vaccinali al di là diciamo di quelli canonici individuati nelle sedi ospedaliere. Qui a Chieti come vi state organizzando? Noi abbiamo come direzione aziendale abbiamo fatto richiesta ai comuni della provincia di Chieti se avessero a disposizione appunto dei locali per essere poi adibiti a centri e punti vaccinali. Le istanze le stiamo valutando tutte quante poi ci saranno dei controlli per quanto riguarda i requisiti che le strutture debbono avere per poter vaccinare e a seguito dei requisiti qualora li avessero e delle istanze prevenute accettate ci determineremo in seguito con delle delibere di convenzionamento con i comuni che hanno aderito a questa nostra richiesta. Al dottor Francesco Ricci infettivologo e coordinatore del Lucat che è l'unità di coordinamento dell'assistenza territoriale per la gestione della medicina anticovid vorremmo chiedere appunto come oggi partirete qui in questa sede con le vaccinazioni agli over 80. Sì abbiamo attivato tre linee vaccinali, verranno gli over 80 che sono già stati individuati che sono quelli che si sono prenotati nella piattaforma regionale e che sono stati convocati dal CUP che praticamente ha avuto in delega questo tipo di compito. Li aspettiamo, vaccineremo chiaramente cercando di non fare file, di non fare assembramenti e speriamo appunto, devo dire che la struttura merita perché è molto grande, molto accogliente e quindi dovrebbe andare, speriamo, tutto bene. Quanti sono gli eventi di ritto, quelli che comunque si sono anche iscritti sulla piattaforma della regione? Oggi ne vaccineremo 90, però sono più di 30.000, quindi insomma il lavoro è lungo. È lungo e procederà speditamente appunto, dicevamo. Invece la dottoressa Ada Mammarella Anchitella che è la direttrice del servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'ASL di Chieti vorremmo chiedere a lei quando magari comincerete anche a vaccinare le altre categorie individuate come prioritarie. Allora, inizieremo a vaccinare a breve anche in base alle indicazioni del Ministero e della Regione, quindi però sarà la prossima settimana, noi adesso non siamo ancora in grado di sapere con certezza. Le vaccinazioni verranno sempre all'interno di questa sede? Verranno all'interno di ogni sede vaccinale, di ogni punto vaccinale, partiremo e partiremo in tutti i punti vaccinali. Ok, in tutti i punti vaccinali, logicamente. Allora, grazie ai nostri ospiti. Marina, se stai d'accordo, prima di restituirti la linea vorremmo chiedere alla regia anche di mandare in onda l'intervista che questa mattina abbiamo realizzato con il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, per fare un po' il punto della situazione sul futuro dell'ex asilo Peter Pan, Madonna delle Piane, che dovrebbe essere uno dei centri individuati come sede della campagna vaccinale, appunto, anti-Covid. Ma sentiamo un po' quello che ci ha detto appunto questa mattina il sindaco Diego Ferrara e poi che restituiamo la linea. Allora, quello che lei ha appena detto è giustissimo. Noi avevamo fatto una lettera di convenzione con la ASL per questo ex asilo per farlo diventare, dopo la pandemia e dopo il periodo di vaccinazione, il distretto di base di Chieti Scalo che gli abitanti appunto dello Scalo sendono tanto la mancanza e la necessità. Se non che sabato ci è arrivata una lettera della ASL nella quale viene esplicitata la loro volontà di trasformarla in consultorio familiare, cosa di cui non avevamo assolutamente parlato. Quindi cambiando un po' le carte in tavola. A questo punto, come centro vaccinale, noi avevamo già da tempo pensato alla soluzione B e che potremo approntare già da domani stesso e che è il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara. Per quanto riguarda il Peter Pan che sarà ristrutturato grazie alla munificità di imprese private lo riadibiremo ad asilo per l'infanzia, di cui buona parte della cittadinanza di Chieti Scalo sende anche questa necessità.